ciao potoline allora avevo appena finito di girare questo video l'ho messo a convertire ma mi si è bloccato il computer perché l'ho fatto cadere il portatile una volta in così e adesso quando muovo la tastiera comunque se cerco di aprire un po di più fa un falso contatto credo da pseudo tecnologica e si ferma tutto quindi il file che era da convertire me lo dà danneggiato quindi lo rifarò cercando di essere di nuovo sincera come prima ma mi viene veramente strano ripetere le stesse cose che ho già detto non mi sento spontanea comunque allora vi faccio vedere chi c'è qui che mi fa compagnia si vede un bottolino comunque e allora questo mese la gloss è arrivata in super ritardo mega spoilerate perché io non ho non volevo, mi è arrivata lunedì che era il 3 sì lunedì e a qualcuno era già arrivato il venerdì sabato non ho guardato nessun video non ho voluto vedere nulla finché la Glossy non ha mandato un giveaway su non so cosa ho messo l'email per partecipare al giveaway che mai vincerò e come si dice e poi esco dalla pagina e mi è comparsa la home page del sito Glossybox e lì c'erano già tutti i prodotti di maggio messi tutti bene come la solita home della Glossy e ho visto tutto mi sono incazzata da morire come si dice il giorno dopo credo mi è arrivata la Glossy e già sapevo cosa c'era non sono stata a guardarla nello specifico ma l'idea su dimensioni e prodotti c'era già le marche ci sono scritte ahimè comunque ve la vi faccio vedere non mi è piaciuta per niente perché sembrava proprio che loro fossero andati in una profumeria a cavolo non riesco a dire queste espressioni senza dire una parolaccia a bretti o mi viene ma in dialetto a caso e ce l'ho fatta e che gli avessero detto scusate non è che c'è dei campioncini qualcosa che c'è da buttare via lì nel dimenticatoio con la polvere allora si tenga queste cose ed infili pure nelle vostre cavolo di scatolette comunque ho trovato soliti campioncini prima cosa che mi è saltata all'occhio la ricompongo è stata questa cosa della Blue Marine quando ho visto questo era quotidianamente così mi ha detto no ma hai dei campioncini di profumo no per favore invece vabbè profumazione buonissima mi piace molto me l'ero spruzzata nella versione prima di questo video e si sente ancora adesso vabbè era mezz'ora fa perché intanto mi sono presa dalla disperazione mi sono fatta consolare del fidanzato mi sono anche sbattuto contro la porta per il nervoso dentro questo sacchettino caruccio ci infilerò qualche anello qualcosa c'erano come dicevo il campioncino di profumo da 0,1 ml credo e queste due un doccia schiuma e una crema corpo che non ho ancora aperto sinceramente ma credo che essendo della stessa serie abbiano la stessa profumazione sono schifezzuolosissimi però li proverò lo stesso questi qua che ho apprezzato il fatto che non li abbiano calcolati come tre o comunque come due prodotti ma come un'unica entità questo è stato se ci fosse stato questo più le altre cose c'era però ho trovato questi della Besitos che ho visto che è una collaborazione con un certo Luciano Conti che ha fatto il tutto e in più c'è anche Vanessa Incontrada che ci ha messo la faccina shampoo capelli secchi e trattati condizionante e ristrutturante e balsamo senza risciacquo che utilizzo molto in questi periodi perché non ho veramente il tempo di lavarmi i capelli in un modo normale districante e settificante questi sono carini anche il formato sono 30 ml buono mi è già partito eri buono sì come profumazioni sono buono sì mi è rimasto un tappino tipo dal gatto scusa amicio se ti alzo le gambe sì sì povegino li proveremo 20 cioè 10 ml di crema solare io mi ci spalmo un polpaccio forse una coscia cosa me ne faccio sì posso provare vedo con un altro un altro solare me lo spalmo tranne che su un braccio sul braccio metto questo e vedo dove mi abbranzo di meno cioè non lo so cosa posso capire io dato che la gloss è nata per provare i prodotti per vedere e vedere se successivamente acquistare io cosa ci provo di una crema della Eucerin non lo so poi stesse marche cioè la Glossy va bene ci lamentiamo che non ci sono dei prodotti super lusso cosa però la lista dei brand con i quali sono affiliati è sempre quella però ci saranno almeno 30 marchi ma io vedo sempre i soliti Isadora che mi piace sinceramente Eucerin cosa era uscita vabbè la Criolan che è una buona marca tutto quanto non saprei dove andarla a reperire ma non credo neanche che comprerà una roba della Criolan però questi marchi girano girano e girano e basta e che vergogna questa cosa è minuscola comunque le uniche due cosine carine dopo le creme sono queste due satin powder della Criolan come dicevo mi sa che me ne sono arrivate due nel senso nelle prime gloss mi sa che non c'erano probabilmente avevano finito dei prodotti nelle ultime che hanno inviato dato che mi sa che le hanno mandate a scaglioni dicendo anche che più avanti i primi scaglioni le faranno a pezzi le spedizioni e il primo che mandano è quello delle abbonate più vecchie io credo di esserlo sono abbonata quante box ho? 4 più una mashup sono 4-5 mesi che sono abbonata alla gloss cioè è nata sia a novembre ma credo che dal gennaio non è molto abbonata sì dicembre-gennaio mi sono abbonata credo di essere in quelli speriamo perché mi sono rotta le scatole di spoilerate cose del genere grazie a chi le fa anche nel senso perché dopo mi fa piacere anche a me confrontarmi guardare scrivo anche io le cose ma cioè dovrebbe arrivare il 25 comunque alla fine del mese per cui ti ho pagato anche perché è arrivata quando parlo è arrivata adesso un'email con scritto che il 9 l'8 o il 9 ci ciuppano già i soldi dalla poste pay o da quello che sia ma mi è arrivata due giorni fa mi rubi già i soldi per quella dopo non volevo abbonarmi non avevo soldi sulla carta ma li ho dovuti mettere per altre commissioni mie e quindi ci sono cioè vedo veramente se il prossimo mese decidere se disabbonarmi o no anche perché è uscita la la My Beauty Box non mi ispira per niente la Sugar Box quella mi è sembrata carina mi cioè solo dall'idea della scatoletta non so perché spero che abbia un cioè un un filo conduttore un po' più bio anche perché mi piace molto il mondo intanto spurcio il gatto mi piace molto il mondo del biologico solo che veramente le cose hanno dei prezzi allucinanti dicevamo dopo questo sprolo sproli soliloquio questa Satin Powder 331 e la 555 nelle loro relative scatolette che sono carinissime mi piace molto il fatto che io pensavo fossero i soliti pigmenti che tu aprivi e la metà usciva invece no perché hanno questa parte in plastica e quindi il prodotto si preleva solo dal centro ecco qua questa dicevo la 331 mano sinistra e 555 vediamo no non si vede sono invisibili sono molto carine sono veramente simili come colori quindi non è che uno si possa sbizzarire tanto però ci sta 3 grammi di prodotto vista anche dalla cartolina che vengono proprio è un full size e Criolan polvere micronizzata perfetta come ombretto punto luce qui spettacolare polvere colata per il corpo 3 grammi 11 euro e 26 22 euro cioè quasi 23 ci sta questi mi sono piaciuti l'unica cosa vabbè come ho già detto sono veramente simili come colori quindi non ne userò una l'altra la terrò nella scorta come vedete l'ho già svuotata perché non non mi veniva da fare l'unboxing queste cose qua non so non mi è piaciuta veramente mi è piaciuta molto meno rispetto alle altre io sono rimasta entusiasta anche da glossy box che magari ad altre ragazze non sono piaciute perché c'era il fatto della sorpresa poi aprire i pacchetti è stato la cosa più bella del mondo anche se mi devi regalare una caramella una rossana se mi ci fai un pacchettino col fiocchetto io impazzisco per me quella è la caramella a parte che è buona però diventa la cosa più figa del mondo cioè sono felice per tutto il giorno per un pacchettino minuscolo non boh vabbè cosa posso dirvi di altro nulla 11 minuti vi chiedo scusa se può interessarvi del fatto che per un po' non ho fatto video ma ho ripreso a lavorare tutto il giorno mattino e poi la sera quindi ho solo 3-4 orette al pomeriggio libere e se non dormo cercherò di fare video in futuro oggi avevo la mattinata libera quindi fino alla prossima settimana non ce l'avrò e ne approfitto per stare un po' con voi e per fare la spesa vabbè e vi mando tanti baci baci ringrazio questa volta x bambolina ilung y per perché ho vinto il suo giveaway grazie mille sono contentissima è la prima volta ci provo sempre in tutti 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 i giveaway anche quelli americani adesso c'è una ragazza che ha messo un ipod in palio per un giveaway ma questo ma dove li vabbè ha milioni di iscritti però e li provo tutti ma non ho mai vinto nulla invece questo giro ce l'ho fatta e sono contenta anche perché è un canale che seguo sempre quindi è un collegamento in più tra me e lei comunque vi mando un bacionissimo e vi faccio salutare anche l'amicio dopo ma è morto dopo ci è morto dopo vecino oddio mia mamma è stanchissimo ecco ecco questo è lui si si bravo bravo si lo so che stai dormendo sono un po' cattivella e vabbè ciao ciao ciao